Sono contenta che sembrate tutta gente a posto. A volte capita di fare dei viaggi con della gente orrenda. Tipo, io ero un po' preoccupata che fosse il tuo primo viaggio e non avessi recensioni, però era proprio il passaggio di cui avevo bisogno. Certo, devo ammettere che a volte capitano delle cose surreali, questi viaggi, però alla fine credo che si incontrano sempre delle brave persone, questa è la mia sensazione. Certo, mia madre è sempre un po' preoccupata per me. Surreali tipo che cosa? Tipo, non so, la cosa più assurda che mi è successa, vabbè, è una cosa un po' noiosa. Adesso vogliamo sapere. Ok, va bene. Dunque, in uno di questi miei viaggi in Umbria, dovete sapere che io viaggio sempre di venerdì alla stessa ora. Stavo viaggiando con un conducente più grande, un signore sulla cinquantina circa. Appena salita in auto, lui inizia a guardarmi in modo strano dallo specchietto e mi fissa per tutto il viaggio. Oh cacchio! Avvertivo delle strane vibrazioni, ma con noi c'era un'altra ragazza in macchina, lei era seduta davanti, ma il signore guardava in modo strano solo me, scrutandomi dallo specchietto retrovisore. Il fatto è che il tizio mi diceva di essere professore dell'Università di Perugia, sapete? Quindi non era mica uno qualunque. Io l'ho cercato su internet ed era tutto vero, quindi mi sono un attimo tranquillizzata. Anche questo è un pregiudizio, pur positivo, pur sempre un pregiudizio. A un certo punto il tizio si ferma e dice, senti io ti devo dire una cosa, io vedo la gente morta. Che? Sì, se ne esce così. E poi aspettate, dice, è da quando siamo partiti che c'è una vecchia signora seduta accanto a te. Oddio. Eh? Ditemi voi se non avreste avuto paura. Eh, direi. E poi continua, dice, è una persona della tua famiglia paterna, credo sia tua nonna, è alla tua sinistra, deve esserci un motivo. Davvero? Sì, ma la cosa assurda è che io mia nonna paterna non l'ho mai conosciuta, perché poi io con tutta quella parte della famiglia non, cioè, vabbè niente, glielo dico. E lui cosa dice? Beh, allora è questo il motivo. Vuole stare vicino a te, vuole recuperare il tempo perso. Ovviamente a me è venuto praticamente da piangere, perché poi io sono una che si spaventa facilmente e credo molto a tutte queste cose. Anche io. Ho vissuto malissimo tutto il resto del viaggio, mi sono fatta anche un po' più stretta per far spazio alla signora. È stato davvero inquietante. Assurdo.